Tra poco, Jessie, a Disney Channel. Venerdì inizieranno le tue sorprese di Natale. Nel nuovo episodio di Live and Maddi alle 19.05 brillerà una nuova stella. Che non accetta di dividere il palcoscenico. Scendi dal mio palcoscenico, biondina. I quattro amici più divertenti di Miami avranno problemi con i regali di Natale nel nuovo episodio di Austin & Ellie alle 19.35. Ho il prototipo del giocattolo top per le prossime feste. La bambola Austin Moon. Qualcosa non va. Hanno i capelli lunghi e fluenti da principessa. Che bello, capelli da principessa. Non perdere le novità natalizie del nuovo episodio di Live and Maddi e di Austin & Ellie. Venerdì dalle 19.05 a Disney Channel. Che bello, capelli da principessa. Che bello, capelli di Natale. Grazie a tutti.